Salve a tutti ragazzi e benvenuti al vostro Fisker se neanche io ci credevo ma veramente Shiba Miner paga ragazzi oggi faremo la novità importante la prova di pagamento in far vedere che questo sito paga l'ho fatto vedere qualche giorno fa ragazzi quindi sito veramente top ovviamente per ora detto questo ragazzi mi raccomando è importantissimo iscrivetevi al canale YouTube per rimanere aggiornati per provare quando questi siti finiscono iscrivetevi al canale Telegram per rimanere aggiornati per fare la rete condivisa e guadagnare tutti insieme quindi importantissimo iscrivetevi subito sia su YouTube che Telegram per rimanere aggiornati per provare di pagamento per fare la rete condivisa e guadagnare tutti insieme attraverso commenti e tutto il resto detto questo ragazzi faccio un piccolo rassunto Shiba Miner è un cloud mining di Shiba ragazzi Dogecoin e Litecoin potete appunto minare illimitatamente Shiba Dogecoin e Litecoin in maniera totalmente gratis ragazzi basta andare qui sotto cosa dovete fare qui sotto il link descrizione qui in basso attraverso il mio link riceverete questa pagina iscrivetevi con email e password e arriverete a questa pagina quindi se volete partecipare insieme a me link qui in basso ragazzi e arriverete a questa pagina detto questo questa è la pagina in questione andiamo a vedere la cosa più importante la cosa più importante è capire che ovviamente come ho detto nel scorso video ragazzi investite solamente cose che non volete investire mi sono spiegato a merda investite solamente ragazzi cose che potete perdere sono siti ad alti rischi quindi state attenti non vuol dire che se un sito paga vuol dire che dura nel senso che mettiamoci le cose come stanno il sito paga sì ma non può cioè secondo me non dura più di tanto ragazzi quindi state attenti quindi attenzione detto questo ci andiamo a vedere la storia di pagamenti praticamente ragazzi ho fatto il ritiro stamattina con il Dogecoin praticamente ragazzi ho ritirato 14 Dogecoin ma ne per provare la piattaforma io non ci credevo neanche che funzionasse invece funziona e praticamente ragazzi ho ritirato 14 Dogecoin alle ore 9 e 24 mm praticamente ragazzi dopo un'oretta no dopo 20-30 minuti mi sono arrivato e qui c'è scritto l'11 26 ma qui mi sa che è sbagliato comunque beh dopo 30 minuti comunque due ore mi è arrivato sul coin mese mi sembra veramente accreditati questi 2 euro 32 eccoli qua 14 Dogecoin e qui 14 Dogecoin approvati pagamento veramente top come sito ovviamente nel breve periodo cosa c'è da dire che la cosa che mi preme più da dire che molti non capiscono questi siti ragazzi quando pagano cioè se pagano ragazzi non vuol dire che non possono scammare non sono siti scama come intendete voi per me un sito scam è solamente siti in cui non capisci questi siti nel senso che bisogna stare solamente attenti uno lo prende come gioco lo prende come un gratta e vinci lo sapete bene non ci investite la casa o la moglie quello che avete non investite cose che potete che mi danno noia di perdere ragazzi sono siti altamente rischiosi sono siti che non mi invito a investire se appunto non le prendete così mi raccomando non ci investite ragazzi questa cosa più importante che vi fa capire ma questo come tanti siti che porta sono siti ad alti rischi questo paga ovviamente non si sa per quando la piattaforma quant'è da otto giorni secondo me le mie stime durerà per altri 20 30 giorni e forse anche due mesi sicuro se tutto va bene ci sono gli investimenti ma non vuol dire che potrebbero chiudere fra due o tre giorni o potrebbero chiudere fra due mesi non si sa ragazzi quindi investite con coscienza nulla ragazzi il sito che paga sito top per ora ci becchiamo alla prossima grazie per aver seguito e ci becchiamo nulla iscrivete al canale youtube per i miei aggiornati iscriviti al canale tedram che serve più che altro a ragionare e a condividere informazioni di questo genere per capire quando un sito può scammare se un sito può durare o comunque per partecipare alla rete fisca e sguadagnare tutti insieme grazie mi ha seguito ci becchiamo alla prossima let's go